Globalizzazione e federalismo alla Summer School 2010, opportunità e scenari futuri per le piccole imprese. A margine dell'iniziativa abbiamo sentito in tre interviste esclusive il ministro Renato Brunetta, che promette guerra senza tregua alla burocrazia, l'eurocommissario Antonio Tajani, che parla della nuova politica industriale dell'Unione Europea, il professor Luca Antonini, che spiega la rivoluzione federalista contro sprechi e inefficienze. Fernando Alonso sul gradino più alto del podio. Bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Questa edizione è dedicata in gran parte alla Summer School di Confartigianato, il tradizionale appuntamento settembrino che riapre la stagione della rappresentanza confederale. Globalizzazione e federalismo, i temi centrali dei focus di approfondimento di questa edizione, a cui hanno preso parte politici, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico italiano. La cronaca dell'evento nel servizio di Fabrizio Cassieri. Settembre è diventato il mese della Summer School di Confartigianato, un evento che appartiene alla tradizione della vita associativa confederale e che negli ultimi anni ha saputo confermarsi come il pronti e via di una nuova stagione di rappresentanza delle micro e piccole imprese del paese. La recente crisi finanziaria ha definitivamente messo in chiaro un dato, il mondo che viviamo è un mondo globalizzato, politicamente e soprattutto economicamente. Forte di questa convinzione, Confartigianato ha scelto come tema centrale di questa edizione proprio la globalizzazione. Una globalizzazione che, come ha ricordato il presidente Giorgio Guerrini nel suo discorso di apertura, ha mostrato le importanti ricadute che ha sul sistema economico comunitario e su quello nazionale. E proprio per approfondire il tema europeo, le difficili situazioni di nazioni come Spagna, Irlanda e Grecia, Confartigianato ha invitato Antonio Tajani, vicepresidente e commissario all'industria e all'imprenditoria della Commissione Europea. Successivamente ha salito sul palco dell'Ata Hotel Villa Panfili di Roma Renato Mannheimer, che ha presentato il tradizionale osservatorio ISPO Confartigianato. Dal rapporto è emersa la ferma volontà degli imprenditori associati di vedere realizzato al più presto il disegno di federalismo fiscale, l'unica possibile leva di ripresa economica per il paese. Paolo Feltrin, moderatore di tutta la manifestazione, ha riportato quindi il dibattito sui temi economici e finanziari legati all'Europa, alla recente crisi che ha intaccato le certezze di tanti stati comunitari e alle soluzioni adottate da Bruxelles per la quadratura dei bilanci dei paesi membri. La crisi greca ha posto l'attenzione sul difficile rapporto tra le politiche economiche comunitarie e quelle attuate dagli stati membri. Per capire meglio il caso greco, Confartigianato è invitato qui alla Summer School 2010, Dimitri degli Olanes. Attualmente la situazione è che c'è una troica, composta dalla Commissione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, che su base mensile si sposta in Grecia, ci sono poi dei stringer che sono permanentemente ad Atene, e controlla l'andamento, l'applicazione di questo memorandum che è stato firmato il 9 maggio per il sostegno dell'economia greca. Il corrispondente a Roma della TV di Stato Ellenica ha così descritto la soluzione imposta al governo greco per rientrare del buco di bilancio che ha gettato nel baratro economico la Grecia. Il pomeriggio della prima giornata di lavoro ha ospitato l'intervento di Luca Antonini, professore di diritto costituzionale all'Università di Padova, che ha chiuso il ciclo degli incontri di Confartigianato con i tre grandi esperti di federalismo fiscale. Il docente universitario ha riportato la propria analisi sui territori italiani e sull'attuazione di un federalismo fiscale che non è più rinviabile. La glocalizzazione, allora, la reazione territoriale in un panorama globale, diventa l'unica via di sviluppo per il tessuto imprenditoriale italiano. La glocalizzazione è una grande opportunità. Certo, per stare in un mondo glocale bisogna che il locale, quindi il piccolo e il singolo, sia attrezzato per sopravvivere e esistere nel mondo glocale. Se il segretario generale del Censis, Giuseppe De Rita, ha chiuso la prima giornata con un intervento in cui ha sottolineato l'importanza della soggettualità in una società globale che tende all'appiattimento e all'omologazione, la seconda giornata di lavoro è stata introdotta dal confronto tra Enrico Letta e Lucio Caracciolo, rispettivamente vice-secretario del Partito Democratico e direttore della rivista Limes. I due, incalzati dal vice-direttore del giornale, Nicola Porro, hanno dibattuto sull'Europa, anche e soprattutto, alla luce della recente crisi che ha messo in difficoltà molti stati membri, fino ad arrivare a mettere in dubbio la forza dell'euro, l'unica moneta al mondo, come ha ricordato Caracciolo, che non ha un vero e proprio stato alle spalle. Nella competizione con le aziende europee, le imprese italiane corrono, frenate dal fardello della burocrazia. Alla Summer School di Confartigianato, il ministro per la semplificazione e l'innovazione, Renato Brunetta, analizza gli effetti della crisi e annuncia le prossime tappe della sua battaglia per disboscare la giungla di ostacoli e vincoli che bloccano le potenzialità dei nostri imprenditori. Lorenza Manessi lo ha intervistato per noi. La crisi ha fatto riscoprire il modello italiano della piccola impresa. Quali sono gli elementi vincenti di questo modo di fare impresa tipicamente italiano? Il modello della piccola impresa non è mai tramontato. Forse un po' di retorica aveva spostato l'attenzione. La piccola impresa, in quanto capace di formare mercato, di produrre rete, di produrre beni e servizi efficienti, non è mai stata in discussione. Il problema sono le condizioni a contorno. Per uscire definitivamente dalla crisi e per creare una nuova stagione economica positiva, l'Europa ha deciso di puntare su una nuova politica industriale. Alla Summer School di Confartigianato, il vicepresidente e commissario all'industria e all'imprenditoria della Commissione europea Antonio Tajani lancia il progetto dell'Europa amica delle imprese, il servizio di Ivan de Menego. Mentre in Italia l'attenzione è tutta per il futuro politico del paese, l'Europa mira decisa il rilancio dell'economia del vecchio continente con la proposta di una nuova politica industriale per l'Eurozona che metta l'industria manifatturiere e le piccole imprese al centro della crescita. Il piano presentato alla Summer School di Confartigianato è quello dell'Eurocommissario Antonio Tajani, un progetto che diventerà ufficiale solo a metà ottobre ma che ha già incassato il plauso, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. È venuto il momento, ha detto nei giorni scorsi il Capo dello Stato, che l'Italia si dia una seria politica industriale nel quadro europeo, secondo le grandi coordinate dell'integrazione europea. Un monito, quello di Napolitano, a sciogliere i nodi dell'economia italiana guardando all'iniziativa di Bruxelles, che cade in un momento politicamente complesso e con la casella del Ministero dello Sviluppo Economico ancora libera. L'Europa ha deciso di puntare per uscire definitivamente dalla crisi ma anche per creare una nuova stagione economica positiva su una nuova politica industriale. Una nuova politica industriale significa un modello diverso da quello dell'industria degli anni 80 e 90. C'è un'industria che non sia figlia di aiuti di Stato. Il piano mira a rendere l'Europa amica delle imprese grazie al buon funzionamento dei mercati finanziari e dell'accesso al credito, soprattutto per le PMI, al rafforzamento del mercato unico, a meno burocrazie e migliori infrastrutture per trasporti e energie digitali. Una nuova economia più intelligente, basata su ricerca e innovazione e più sostenibile in termini di efficienza energetica e ambientale. E ancora sostegno all'internazionalizzazione della nostra industria, perché ha spiegato Tajani dal palco della Summer School dare la possibilità di esplorare nuovi mercati e lo strumento più efficace per evitare le delocalizzazioni. Tajani ha anche dato al TGA alcune anticipazioni su due cavalli di battaglia e di confartigianato. La legge reguzzone sul Made in Italy, il commissario sta cercando una soluzione con il governo che permetta all'Italia di avere un suo Made in in sintonia con le norme comunitarie e i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Siamo, direi, in dirittura d'arrivo anche per l'approvazione della direttiva sul ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa direttiva metterà in movimento molti miliardi di euro e farà il bene non soltanto delle piccole e medie imprese, ma permetterà a queste di reinvestire, quindi creare nuovi posti di lavoro e insomma essere un volano positivo per tutta l'economia. Il governo accelera i tempi per approvare i decreti sul federalismo fiscale. Le nuove regole potranno far uscire l'Italia dalle secche dell'inefficienza e restituire diritti e potere decisionali ai cittadini e agli imprenditori. Ne ha convinto il professor Luca Antonini, presidente della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia. Alla Summer School ha spiegato come la riforma cambierà la nostra vita. Il servizio di Lorenza Manessi. Professore Antonini, gli artigiani sono convinti sostenitori del federalismo fiscale, molto più della media della popolazione italiana. Come potrà cambiare la loro vita grazie a questa riforma? L'anno di lavoro sul federalismo fiscale ha permesso di alzare il coperchio della pentola e ci siamo accorti che dentro il sistema italiano c'era di tutto, era davvero un albero storto, i meccanismi impositivi soprattutto a livello regionale e locale erano totalmente fuori asse, vengono chiesti soldi ma non si sa perché. Quindi è una grande operazione di razionalizzazione di una serie di anomalie che sono emerse. Si potrebbe fare una galleria degli orrori per descrivere gli sprechi che esistono nel nostro sistema. Puntuale come ogni anno, torna il riconoscimento assegnato dagli artigiani italiani alle migliori realtà della Formula 1. Nel giorno delle prove libere del Gran Premio di Monza, i vertici dell'Apa Confartigianato Milano e di Confartigianato Imprese hanno consegnato il premio come miglior pilota dell'anno al ferrarista Fernando Alonso, pilota di punta della Rossa di Maranello. Vediamo il servizio di Fabrizio Cassieri. La ventottesima edizione del premio Confartigianato Motori è andato a Fernando Alonso, il due volte campione del mondo spagnolo, pilota di punta della Rossa di Maranello. Come da tradizione, Confartigianato Apa Milano, Monza e Brianza ha consegnato il premio nel venerdì delle prove libere del Gran Premio d'Italia al pilota che ha saputo mettere a punto, in sintonia con la propria squadra di meccanici, la miglior vettura per prestazioni e risultati in pista. Dietro la potenza, la velocità e la fantascientifica tecnologia di una monoposto di Formula 1, infatti, si nasconde la capacità artigiana di tanti meccanici che settano i bolidi del circo più veloce e affascinante del mondo. Noi abbiamo la grande testimonianza di queste grandi categorie, che sono gli autoriparatori, i carrozzieri, di cui assorbono tutto quello che è la nuova tecnologia e la trasformano sulla sicurezza stradale. Quindi questo è il nostro compito, quello che noi vorremmo far capire, la formazione, la trasformazione di sicurezza stradale tra la pista e il mondo civile e quindi noi, che la doperiamo tutti i giorni. Un rapporto che ogni anno viene celebrato con il premio Confartigianato Motori. Insieme allo spagnolo della Ferrari, Confartigianato Milano, Monza e Brianza ha premiato come miglior pilota emergente la prima guida della Sauber, il 23enne Kamui Kobayashi, mentre nella categoria tecnici hanno ritirato il premio dal palchetto dell'area ospitali di Confartigianato Confartigianato, l'ingegner Andrew Newey, capo dei tecnici della scuderia Red Bull e la squadra meccanici della Ferrari. Come da tradizione, Confartigianato ha segnato anche premi speciali per chi ha saputo confermare le proprie capacità in tanti anni di carriera nella Formula 1. E così, tra il cocktail serale organizzato nella splendida sede di Confartigianato e la festa al Paddock Club dell'autodrome di Monza, sono stati premiati anche la Bridgestone, Peter Sauber, direttore dell'omonima scuderia di Formula 1, Agnese Piazzalunga della Maserati e Iarno Trulli, il pilota abruzzese che vanta il quinto posto nella speciale classifica del maggior numero di gran premi corsi in carriera. I riconoscimenti per la categoria giornalismo sono andati a Flavio Vanetti del Corriere della Sera, Mark Thompson dell'agenzia fotografica Get Images e Stefania Bocchi, responsabile delle pubbliche relazioni della Ferrari. Quest'anno dunque il premio Confartigianato Motori si è tinto di rosso, rosso Ferrari, velocità, prestigio e potenza, sogno ad occhi aperti di ogni appassionato di motori. La Ferrari è l'essenza stessa della velocità, dell'eleganza, di uno stile che ha portato il genio italiano in ogni angolo del globo. Monza, Ferrari, sono nomi evocativi del Made in Italy. La nostra battaglia che stiamo conducendo, forse un po' troppo in solitudine, ma che non smetteremo di fare, è quella per la tutela intelligente del Made in Italy. Non ha nulla a che vedere con l'alzata di scudi protezionistici, ha a che vedere con la valorizzazione delle straordinarie capacità di tanta manifattura italiana che si esprime a livelli altissimi, basti pensare ai contenuti tecnologici che stanno in un'auto da Formula 1. Bari, dall'11 al 19 settembre, artigianato protagonista alla Fiera del Levante. Confartigianato organizza esposizione di prodotti, convegni e degustazioni di prelibatezze dolciarie. Quartu Sant'Elena, Cagliari, 13 settembre, opportunità di qualificazione professionale in Sardegna. Alvia le iscrizioni al corso gratuito per diventare tecnici della promozione del turismo e dell'ambiente in Sardegna. Russi, Ravenna, dal 16 al 20 settembre, in mostra Cultura e tradizione della Romagna, il meglio di arti e mestieri alla Fiera organizzata dalle associazioni dell'artigianato. Arezzo, dal 23 al 25 settembre, Festival della Persona, seconda edizione dell'evento nazionale che celebra i valori al centro delle imprese artigiane. E siamo arrivati all'appuntamento che chiude sempre il nostro Tg, quello con la rubrica Il numero della settimana a cura dell'ufficio studi di Confartigianato. 45 è il numero complessivo delle tasse che versano i cittadini tra comune, provincia, regione. Bene, è tutto, ci vediamo lunedì prossimo, sempre sul sito di Confartigianato e buona settimana! Grazie! 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 Grazie a tutti